Ciao a tutti ragazzi, io sono Negromante, uno di cui sono in episodio di GTA V Sono qui con Franklin Allora, il piano qual'era? Era di andare con Michael alla sua missione Poi andare a quella di Trevor E poi fare quella del Burrao So che mi ha chiamato Lester e mi ha detto Ehi, senti, ho un colpo per te E visto che non siamo da un bel po' Michael e Franklin Visto che prima abbiamo fatto una missione con Franklin Mo facciamo una missione con... Ho sbagliato di dire Visto che prima abbiamo fatto una missione di Michael Mo si fa una missione di Franklin E comunque si, han dato i soldi 505.000 Ne avevo già di miei comunque Oh che figa sta auto Mo me la frego, eh, cioè No, vabbè, non voglio Ah, dovrebbe essere qui Lester Almeno dovrebbe Ehm, Lester io sarei qui, eh Ok Mi sa che non me la faceva partire perché c'era la pula Mi sono messo gli occhiali di... Da ganso Oh, ecco Ma io non credo che il n***o Deve avere la pula da sua pula ciò che possiamo fare per portare la battaglia di questi terni. Sì, lo faccio il mercato in nostro favore, e noi facciamo un po' sbagliato quando siamo arrivati. Oh, ok, cool. Certo, hai parlato di Mollus? Oh, sì. Ok, quindi c'è un nuovo Mollus, un tipo di super Mollus, che è chiamato Priopolde, che ha giocato la vita riga mortis. Solo Brett Lowry, CEO di Bilkington Research, ha scelto il FDA. Non importa che gli azioni di pizzerza sono giocati, middle-aged, iniziano gli uomini per il mondo di heart attack. Damn, man, che succede. Sì, lo fa. Ora, il Mr. Greedy Lowry sta andando nel hotel von Krastenberg in Richmond. Ovviamente, sarà ben protettato, ma se si va fuori, l'America va tornare a usare Mollis, e i Beta Pharmaceuticals vengono una grande scuola in il prezzo di loro. Sì, ragazzi, ok, f***, ho capito. Pensavo che tu avessi. Ora, considera usare una riflessione di sniper, o una bomba di sticchi, o, sai, quale. Fai il tuo modo, in quanto vuoi. Io faccio l'investimento, ma non parliamo di questo o qualcosa. Ora, vieni qui, e resti qui, fino a che sei fuori. PORTA VACCA! Ok. Ok. Che fortuna c'è ancora la mia auto. E sei anche riparata. No, ok, vive vicino. Ciao, tet. Ok. Oh, porca vacca. Oh, porca vacca. Eh, vabbè, non è possibile. Oh, porca vacca. Franklin che stai combinando? Eh, dai. Oh, Frankie, non riesci più a guidare. Potrebbe anche essere colpa della macchina. Come l'ho beccato. Ok, colpa della macchina. Oppure Franklin è diventato impedito. Oh, porca vacca. Ce la farò, eh. Ce la farò. Eh, ce la farò. Eh, però, po' da asa, hai già sentito. Allora. Non ho ben capito cosa dovremmo fare. Credo ammazzare un tizio. che derapata. Mamma mia, adesso ce la pula. No ho finito. No ho, no ho finito. Non ho finito, ma cosa davvero va? Come, 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 come. Come. Come, 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 come. Il mio cuore, l'assore. Chi l'ha visto? Eh dai Per la gente che mi spara Eh dai Vitevate Dante padre Stupida polizia Tu che anni mi passate da voi Non so perché No non ti ribeccare da polizia Ci fai? Oh cavolo che voce che mi era venuta fuori Ok dovremmo esserci Non entrare nel garage mi so No mi scusi c'è dai Aspettate Ok scusate rieccomi Ah uccide Immaginavo Eh Devo capire una cosa Oh io non ho il silenziatore Ah mi sa che c'è tipo Il tempo Ma se io sto qua scusa E c'è chi non da qui No eh Da qui una buona posizione Io resterei qui Sì una buona posizione Ok aspettiamogli qui Intanto parliamo fra di noi Come va Franklin Tutto bene? Eh sì bene Eh niga niga Facciamo fuori Bersaia Mi camo Franklin Puiccare travo Puicure ma Puicure M橋 Puicure Michael Tra Dua Oh no Fuck the system Sapevo che devo usare il silenziatore Mamma mia che sfigato che sono Non ci credo ecco appunto Sapevo che devo usare il silenziatore Ma non ce l'ho Lo devo andare a comprare poi eh No un altro minuto bisogna aspettare Risaliamo dai Intanto Devo stare più attento Devo vedere se si ferma magari Perché lui sta per partire Da quel che si vede Ah abbiamo capito che è quello con la camicia rosa Headshot Se avessimo Michael sarebbe più facile Facciamo la cosa del ralenti Franglin ha dei combustioni Che due coglioni Ok 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 Cos'è sto bug? Ok 3, 2, 1 Non Non, non, non Direi di provare una pazzia Voi cosa direte? Scendi giù e scappa? No, no, io vi provare una pazzia Vediamo Non si può Devo gettarmi giù con l'auto Giù, giù di qua, giù di qua Devo smettere di Di parlare sottovoce Visto che non è veramente Oh porca vacca Non ci credo Non ci credo Cioè non posso uccidere due Cioè Come faccio? Non mi dire che mi fa ripartire Calma 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 e serenità C'è una munizione qui vicino Non Non credo di riuscire a fare tempo per prendere se Non credo di riuscire a fare tempo per prendere se